la differenza lo devo annotare sulla tabella attento alla vita l'unico che capisce 4.3 1050 e 73 73 1050 73 4 kg 350 50 ma il pulsante con la fascietta sopra non lo vedete capite ma come cazzo c'è visto il ricordo con paolo io abbiamo la settato meglio dentro però questo c'ha la funzione è il panic recovery, tasto fin, potrei volare in qualsiasi maniera traslata con l'acceleratore a metà, vabbè quello è scontato, a prescindere da come stai lui che lo riadrezzi entro la mattina ferma, fin quando vieni premuto il tasto, e volendo io non faccio l'altro 4 e 4, 4 e 4, 4 e 4, ma come facciamo uno, vedi che non è preciso